Musica 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 Ciao ragazzi, io sono Gisus e oggi si ricordo con me con il Starfustrad Black Apes Ok, oggi siamo di prima persona del titolo perchè voglio farvi notare che manca ancora una stella che sarebbe più o meno 4 Io ho già reperito il trucco per fare in modo che quest di ottenere questa stella cioè attraverso una battaglia che in realtà dovrebbe essere fatta online ma visto che il servizio online di Megaman è stato disdetto parecchio tempo fa dobbiamo per forza ottenerla attraverso questo trucco quindi se siete interessati per caso al trucco perchè ci giocate dal nuovatore o comunque potete farlo con la short replay o cosa di questo tipo scrivetemelo nei commenti e vi fornisco comunque il trucco Ok ragazzi, dobbiamo solo fare qualche passo semplicemente prendo un ultimo select, non so se devo prendere esattamente select per fare in modo che si attivi il trucco penso di no Ok Ok Ok, eccoci qua ragazzi oggi si oggi si fa fuori acidace BB che sarebbe black 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 block ok sono ritornato alla noise di wolf anche se purtroppo non mi da alcun vantaggio perchè con un contro di questo tipo la noise è completamente bloccata ok 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 vedete come potete vedere di contro io non posso minimamente già il noise aia non farà male quanto un sigma però aia 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 qua abbiamo un piccolo problema ecco non scherzate con questo mosso anche se può sembrare no semplice non lo è anche se può sembrare più semplice di un sigma non scherzateci perchè è comunque assimplice ogni faccia il centro ogni volta ci siamo schivati al centro perfetto era veramente bello poter luttare contro questi boss nella dossier dopo aver fatto tutte le 8 online tuttavia abbiamo tutti sdetto online aia 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 comunque come potete vedere è pare più forte aia e se no io non lo sto attendo 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 rischio di farci appazzare scegliami aia 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 ok è sempre difficile come non si sa era 333 che moltiplicato per 2 fai 666 quindi sei satanico così è mancato guardatelo vedete non è stupido come programmazione quella di Asha perchè lui inizialmente tenta sempre di togliere gli invisibili che aveva 3 stupidi quella di Asha vieni a diventare sai qua non è che stavolta nello sai non ce la faccio non lo so se basta poi sai che sei sei ok andiamo alleluia ok volevo farvi vedere un'ultima cosa però togliamomi sto trucco della noise che non mi piace mai non mi piace barato di solito se non sono brugato non lo faccio e ragazzi abbiamo tutte le stelle tutte ok io per oggi mi fermo qua ma non è ancora una volta vi dico che megamen starforce non è finito qua ci manca ancora crimson dragon sigma voglio battere tutti i boss r sotto i 12 secondi e sarà davvero una cosa orribile da fare l'ho fatto ma è stato un parto praticamente forse c'è un trucco anche per battere red joker rr ok bene a tutti ragazzi io sono gisius e io sono alex e oggi siamo tutti e due su megamen starforce tra i blackhaze ok nell'ultimo episodio non mi ricordo più cosa ho fatto però in un momento ho fatto fuori AshiDace bb comunque in questo episodio poiché sono un pazzo maniaco e non so neanche se funzionerà ma prendiamo un paio di volte select così attivo i trucchi e sconfiggiamo l'opposto di AshiDace eh po è il mazzo po questa volta tentiamo di distruggere ehm dread joker rr non so neanche se si può francamente però ho trovato il trucco vabbè ti va si si può si può si può si può fare ok allora Ale non ci ha mai giocato questo tipo di gioco a 4000 si non me ne ero accordo stavo già ridendo non c'entra la tramvica da dopo ehm non c'entra la tramvica allora vi spiego ho tenuto ancora il trucco della noise perchè se no è impensabile perchè come vi ho detto l'ultima volta non farò blackhaze ma la noise mi serve per colpirlo più volte di seguito semplicemente per quello perchè se no i trucchi vanno in conflitto succede un po' un casino comunque via moriremo 27 volte come vedete è molto caotico come gioco non si capisce mai dove cazzo e lo so l'importante è che però per adesso sta andando bene e non è mai successo quindi ok non rendiamo invisibili dissi oh ho delle spade perfetto ho una spada che paralizza che penso uscirò subito così almeno ce lo teniamo via il petto e infatti così e così no 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 facciamo un po' l'invisibile quindi penso che se mi prenda io sia morto effettivamente nel senso proprio che se mi tocca muore poi magari no 1460, molto sinistro Ah ok Ahia Voi hai visto quanto mi ha tolto? Vai vedi quanto mi tolto con un colpo 3 colpi di ammazzo Ah 1460, sono partita con meno vita Ok Oddio che la gata Che sono invisibile devo cercare di colpirlo Guardate Tranquilli mi faccia fare più E' 906 dai non posso morire comunque E' quanto ce l'ho uno E' cosa faccio? Cosa faccio? Con questo lo ammazzo se lo prendi Proviamoci Era il primo tentativo Signori Signori Quanto sono forte Quanto sono Ok Ok E' durato pochissimo come episodio Mi spiacerebbe Farvi un episodio di 4 minuti e 15 Quindi magari vedrò di unirlo all'episodio in cui ho fatto fuori Acid Ace BB Quindi ragazzi Rifaccio l'outro con Ale Quindi ragazzi se vi è piaciuto lasciate un commento Mettete mi piace Iscrivetevi e noi ci vedremo nel prossimo video dove faremo fuori un boss veramente forte Quindi Bene Ma io C'è in tutto questo ragazzi Se vi è piaciuto Non è semplicemente 800 C'è scusate Mille 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 E poi mi intri un po' il cervello Guarda ste loro PCS裏 Ma il cervello Ah no Sto dicendo del Del Oh Sono ultimi Sono Sono Spero a tiene Chi What the F*** Scusa No ma Regas mi sono perso non trovo più luci